Torna la giornata nazionale dell'Associazione di More Storiche Italiane. Giunta alla quattordicesima edizione, il più grande museo diffuso d'Italia riapre le porte domenica 26 maggio. All'Aquila l'iniziativa è organizzata da Azzi, Abruzzo e dalla Fondazione Carispa che in collaborazione con il Comune ed è arricchita da due visite guidate pensate appositamente per i più piccoli. All'interno del Centro Storico Cittadino apriranno gratuitamente al pubblico 12 monumenti privati con alcune novità come l'apertura di Palazzo Margherita, sede comunale del Casino delle Delizie Branconio con i suoi ambienti completamente affrescati di scuola raffaellesca e le Cancelle, uniche esempio di botteghe rinascimentali in città. Sono molti i palazzi che verranno visitati, quest'anno tra l'altro insieme all'Associazione Mamme dell'Aquila abbiamo pensato anche ai bambini, ai ragazzi che saranno accompagnati dall'Explora Tourism Service che è una società che fa questo lavoro perché possa essere spiegato puntualmente quello che avveniva nel passato. Quello che a noi interessa molto è la memoria storica e quindi abbiamo fatto questa cosa anche insieme agli amici della memoria storica e alla Fondazione Musei Italiani. Tutti i monumenti che aderiscono alla giornata nazionale Azi all'Aquila resteranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 su ogni luogo. È prevista l'accoglienza con visite guidate e organizzate dalla cooperativa sociale Explora Tourist Service. Ovviamente in tutto Abruzzo ci saranno aperture gratuite come per Palazzo Sipari, Palazzo Vitto Mazzei o Palazzo Maier. Per l'Aquila Palazzo Margherita è assolutamente uno scrigno da far vedere dopo il sapiente restauro a tutti i cittadini e non solo. Perché è una sede istituzionale storicamente e quindi il fatto di aprire alla città e non soltanto la sede istituzionale ci impegna verso un lavoro di fruizione di tipo turistico e mette insieme sicuramente l'aspetto istituzionale con quello invece più di conoscenza, di divulgazione. Significa che dobbiamo fare, ma lo stiamo facendo, anche un lavoro sui palazzi storici aquilani, sulla fruizione e non spaventarci ma anzi invece alimentarla le diverse modalità di fruizione con le guide, con i supporti digitali perché queste sono le nuove sfide anche del turismo. Grazie. 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 Grazie.